rissa tra giovanissimi aveva salito alcuni giorni fa un coetaneo ai giardini zumalini provocandogli una frattura all'arto superiore è stato ora identificato dalla squadra mobile della polizia l'aggressore che nella notte tra venerdì e sabato scorsi aveva aggredito un ragazzo di 21 anni che era finito in ospedale con una frattura ad un braccio forse scomposta in quanto si era reso necessario anche un intervento chirurgico per il momento gli investigatori mantengono sulla vicenda uno stretto riservo e non si sa se il giovane in realtà abbia sport o denuncia gli agenti della mobile hanno comunque indagato a fondo con la supervisione della procura fino ad arrivare all'identificazione del giovane anche perché si è trattato di un reato quello di lesioni dolose gravissime perseguibile anche d'ufficio trova quindi conferma anche in quest'ultimo intervento quanto rilevato dallo stesso questore cicimarra nell'ambito del bilancio delle attività di polizia del 2021 in merito all'incremento nel biellese di reati riconducibili a giovanissimi in alcuni casi anche minori